Andrea e Davide sono soltanto due dei giovani calcettisti amatoriali che hanno ripreso a giocare. Sono stati quattro mesi duri per gestori e calciatori, quattro mesi dove è mancato il rapporto umano, dove è mancata la coesione del gruppo e nel caso la birretta post-gara. Per loro, ma come per molti altri, è stata una bella emozione ritornare sui campi. È sicuramente un onore poter tornare a giocare a pallone con tutti quanti i miei amici. È una cosa che ci è mancata molto nell'ultimo periodo, anche perché è uno sport che ci tiene sempre più uniti e garantisce la formazione di un vero e proprio gruppo. Alla fine è calcetto amatoriale, però c'è anche la giusta sana competizione. Certo, sì. Noi di solito facciamo scommesse tra di noi per chi vince o chi perde. Quindi c'è questa sana competizione che ci permette anche di divertirci in maniera comunque corretta tra di noi. Le nostre spalle, commenti, diritto, risate. E questo fa parte di un bel gruppo ormai assodato nel tempo. Certo, certo. Siamo amici di lunga data che si riuniscono quasi ogni settimana per fare tre, quattro partite alla settimana. È stata dura però, dopo quattro mesi, stare a casa. Hai sognato questo calcetto durante il Covid? Abbiamo aspettato con ansia questo momento, anche perché il calcetto è stata una delle ultime attività, diciamo, che ci sono state concesse dopo il lockdown. Però fortunatamente è arrivato questo momento, quindi adesso cerchiamo di godercelo e di divertirci al massimo. Invitiamo tutti gli amici a ritornare al calcetto con un buon calcetto a tutti. Sempre. Buon calcetto a tutti, ragazzi. Buon calcetto a tutti.